Whatsapp è una fornace di litigi perché basta mettere una faccina sbagliata e la frase cambia radicalmente senso, da A a Z proprio, quindi sarebbe meglio parlare. San Valentino, giorno degli innamorati, noi ci siamo chiesti quanto le nuove tecnologie abbiano cambiato le dinamiche interne alle coppie e quanto poi in realtà si litighi per l'utilizzo di queste nuove tecnologie, quindi smartphone ma anche e soprattutto social network. Sicuramente mette in gioco molti fattori, nel senso molte cose che prima era impossibile sapere o magari, non so, discorsi che qualcuno faceva, personale, ora è diventato tutto molto pubblico. All'interno delle coppie? Questo che molte cose che magari prima non venivano, cioè rimanevano in certi ambiti, ora diventano di dominio pubblico, quindi magari la controparte viene a sapere queste cose, scoppiano fraintendimenti e queste cose qui, cioè il problema sono i fraintendimenti. Secondo un'indagine commissionata da un'azienda leader nel settore della tecnologia, tra le principali cause di discussione tra le coppie ci sarebbe proprio il cellulare. Il 15% delle liti sono infatti dovute al fatto di non essere rintracciabili a causa del cellulare scarico. Dall'indagine inoltre risulta che le discussioni all'interno di una coppia si accendano in media nove volte a settimana, a causa dei litigi, principalmente le cattive abitudini, la situazione finanziaria ed infine appunto il fatto di non essere rintracciabili. Secondo me rende il rapporto morboso e lo svilisce, cioè anche può agevolare nell'approccio perché ovviamente non è più come una volta che uno andava magari a parlare, però ne toglie un sacco di valore secondo me al rapporto e poi veramente diventa una cosa di fiducia morbosa, nel senso cercare sempre quando hai fatto l'ultimo accesso a chi mi hai messo mi piace, a chi non mi hai messo mi piace, secondo me lo complica inutilmente. Ormai il cellulare ti dà con tutte le infinità di opzioni che ci sono, ti dà modi infiniti anche purtroppo di tradire, di scoprire nuove persone e di conseguenza conoscerle, avvicinarti all'insaputa del tuo compagno o della tua compagna. E quindi nasce bene o male questa sfiducia, non vedo mai che fai, non posso vedere cosa fai, c'è sempre questo lato diciamo nascosto e quindi forse è quello che un po' mette in crisi le persone.